Cristo è risorto, è veramente risorto. E' questo il saluto pasquale di noi cristiani ortodossi che inizia oggi e ci accompagna per 40 giorni. Oggi infatti 5 maggio 2024 la Chiesa Ortodossa e gli ortodossi di tutto il mondo festeggiano la santa risurrezione di Cristo, appunto è la santa Pasqua. Io sono l'archimandrita Benedetto Colucci, l'abbate e responsabile del monastero ortodosso di Seminara, vicino Palmi. Questa è una realtà ortodossa, un monastero ortodosso tra i pochi in Calabria, che è appunto il cuore pulsante della fede ortodossa qui nella piana di Gioia Tauro. Quindi mi sento di rivolgere dal profondo del cuore gli auguri più sinceri di Santa Pasqua a tutti gli ortodossi che abitano qui in Calabria. Sono tanti, provenienti dall'est europeo e il mio cuore è con loro oggi a festeggiare la risurrezione di Cristo. Ma il mio saluto, il mio augurio si rivolge anche ai calabresi, perché in questa Chiesa si verranno, scopriranno appunto le loro radici cristiane e spirituali. Quindi invito anche i calabresi a venire qui a visitare e a conoscere la nostra Chiesa, la nostra fede e la nostra cultura. Buona Pasqua, Cristo Risorto, Christos Anviat, Christos Anesti, Christos, Christos, Christos. Christos Anesti, Christos, 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 Grazie.